A questo punto nel nostro corso abbiamo già una nozione abbastanza strutturata, non dico che sia definitiva in nessun modo, ma una nozione abbastanza strutturata di filosofia, basata sui classici greci, che ci consente di muoverci in avanti verso quelli che sono gli argomenti un po' più centrali di questo corso, che intendo cominciare adesso, anche se questa lezione è ancora un po' un ibrido, perché è una lezione che ancora vuole essere sia un'introduzione un po' storica, per capire effettivamente dove ci collochiamo, quando, con gli autori principali con cui dobbiamo avere a che fare, sia però è una lezione in cui voglio introdurre quella che è la logica principale di questo corso, che è la logica del divenire. Quindi iniziamo dalle tre domande base per inquadrare il nostro oggetto di studio di adesso a livello storico, il dove, chi e quando. Vogliamo concentrarci sulla nascita della filosofia dove, come probabilmente sapete, la filosofia greca non nasce in Grecia propriamente, nasce nelle colonie della Grecia, in particolare in quelle colonie che oggi sono Turchia, Italia meridionale, Sicilia, in parte Calabria, Puglia, la parte migliore ovviamente dell'Italia, la parte del sud. Ci sono tanti motivi per cui alcuni sostengono che la filosofia è nata prima in queste colonie, forse perché c'era più agiatezza e spensieratezza anche rispetto alle guerre, io non sono uno storico di queste cose né mi interessa esserlo, quindi questo tipo di valutazioni lascio ad altre, semmai interessante un altro aspetto, così come curiosità e più di, se vogliamo, di geopolitica, che sicuramente la filosofia non è la prima cosa di una civiltà, la filosofia, e questo è una cosa che sottolineava anche Aristotele, richiede già una certa effettivamente tranquillità per una civiltà, se c'è troppa fame, se c'è troppa guerra, la gente non ha il tempo di fermarsi a pensare, ci vuole un po' di tranquillità e agiatezza per pensare, in qualche modo la filosofia sotto questo profilo è un po' aristocratica, richiede l'ozium latino, ma l'ozium richiede la possibilità di effettivamente fermarsi in un luogo tranquillo e pensare. Quindi siamo già, quando nasce la filosofia in Grecia, in un momento in cui effettivamente c'era un certo sviluppo già della civiltà e una certa tranquillità tale per cui alcuni pensatori potevano dedicarsi effettivamente al pensiero in quanto tale. Siamo più o meno tra il VII e il VI secolo a.C., la data d'inizio della filosofia ovviamente è convenzionale, non c'è un anno esatto, alcuni cercano di identificarlo con la nascita di Talete che è il primo filosofo della storia e anche lì siamo comunque a giudizi che non vanno intesi come giudizi scientifici. Talete per molti versi è visto come il primo filosofo e oggi vedremo il perché e non è chiaro quando sia nato ovviamente, non abbiamo scritti di Talete, alcuni cercano di rintracciarne la nascita in base a un'eclissi che lui pare aver predetto, quindi in base a quella eclissi cercano di capire più o meno l'anno, però addirittura non è chiaro di quale eclissi si parli, per cui ci sono tante discussioni su questi aspetti storici, però sicuramente siamo in quel periodo, VII-VI secolo a.C. Siamo in un periodo in cui la filosofia è ancora molto collegata alla poesia. Pensate alla cosmogonia di Esiodo per esempio, in cui all'inizio c'è il caos, poi si genera la terra, agea e poi il tartaro e poi l'amore e poi la notte, il giorno. Questo modo di ricercare comunque una spiegazione dell'origine delle cose è comune anche alla poesia, però è interessante perché già come dicevamo anche la volta scorsa il tentativo rivela l'esigenza per chi osserva la realtà di ricercarne una spiegazione. Ovviamente il poeta la cercherà in modo più mitologico, senza una necessità di procedimento razionale causa-effetto, invece il filosofo fa un'altra cosa. In effetti è quello che è il motivo per cui Talete in qualche modo è il primo filosofo, perché da alcuni frammenti si potrebbe anche pensare che Talete fosse un po' un poeta anche lui. Come tutti i filosofi antichi di cui abbiamo frammenti, alcuni scrivono in modo molto oscuro e spesso molto poetico, però c'è qualcosa che emerge in modo abbastanza chiaro anche tramite gli interpreti dei filosofi stessi ed è il fatto che Talete, ve lo ricorderete, io alcune cose neanche quasi le cito, ma Talete è quello che è famoso perché dice che ha detto che l'acqua è il principio di tutte le cose, mettiamolo per scontato, mettiamolo nel cassetto, è il filosofo dell'acqua, cosa che per noi potrebbe sembrare molto ingenua in un certo senso e lo è, non c'è dubbio, il livello di spiegazione della fisica e della natura, dire che l'acqua è il principio di tutte le cose è chiaramente un'affermazione ingenua rispetto a noi. 2600-2700 anni fa effettivamente era certamente meno ingenuo al punto che in realtà era un'affermazione estremamente profonda e possiamo intuirlo, in realtà l'idea dell'acqua non è così banale come risposta, perché se ci guardiamo intorno, vediamo che dove c'è vita c'è acqua, l'umido in qualche modo è ciò che fa crescere le piante, l'acqua si genera la vita quando piove e c'è un ciclo in qualche modo che collega il mondo in termini di pioggia e di acqua del mare, fiumi, non è così strano, noi oggi sappiamo molto meglio di talete che noi stessi siamo fatti più del 90% di acqua, quindi è facile vedere che quando le cose muoiono si disidratano, quasi scompaiono nello scomparire dell'umido, del bagnato, quindi non è così, c'è qualcosa in questa idea dell'acqua, non la sto ovviamente difendendo come spiegazione dell'origine delle cose, però ora io spero che sarete d'accordo con me sul fatto che affrontando meglio il motivo logico per cui talete ha detto che l'acqua era il principio di tutte le cose, apprezzate la genialità di talete, perché sul motivo per cui l'ha detto è capace di dare ancora punti a tutti quanti, compresi a noi oggi, perché vedete, come dicevo anche nelle scorse lezioni, in filosofia non è tanto importante la conclusione, la soluzione, è importante il problema, quindi la verità, il punto di vista che dobbiamo assumere adesso è il problema, cioè cosa stava osservando talete che ha suscitato la sua meraviglia filosofica in modo razionale al punto da generare quel tipo di risposta che può essere sbagliata, ma può essere anche brillante, non nella risposta specifica, ma nel modo con cui si arriva quella risposta. Pensateci, effettivamente se noi siamo talete nel VII o VI secolo a.C., che cosa ci stupisce per prima, osservando la realtà, la natura, di cui chiaramente gli antichi avevano un contatto molto più diretto del nostro, noi oggi abbiamo sicuramente una visione della realtà molto più articolata e complessa e sofisticata, però spesso ci perdiamo le cose più naturali, ci sono bambini che crescono in città, che non hanno mai visto magari una mucca e non sanno magari osservare alcune cose che in realtà sono molto naturali, il che oggi è un problema per l'educazione dei giovani oggi, il contatto con la natura serve, è molto importante, è importante a volte sporcarsi le mani, ma vedere il mondo meglio. Per gli antichi era più facile vedere una serie di processi naturali. Cos'è la cosa che stupisce di più? In un certo senso la cosa che stupisce di più gli antichi è notare che tutto cambia, tutto diviene. In natura ogni cosa diventa qualcos'altro, uno nasce, muore, l'albero cade, poi si brucia, diventa cenere, poi concime, poi scompare nel terreno, poi dal terreno viene fuori qualche altra cosa. Non c'è niente di statico, tutto si muove e cambia. Ora voi potreste pensare, beh certo, cosa c'è di strano? Certo, come osservazione di fatto non c'è niente di strano, ma proviamo ad applicare la logica della meraviglia a questo. pensate a che cosa significa che qualcosa cambia. Cioè la logica del cambiamento come funziona di base? Se io dico che questa cosa cambia, per esempio che va da qui a qui, prima si trova qui, adesso si trova qui, il Fulvio prima aveva due anni, adesso ne ha venti, prima il bambino era alto 30 cm, adesso è alto un metro e venti. Quando predichiamo il cambiamento di qualcosa, che cosa significa questa predicazione? Cosa presuppone? Presuppone una cosa importantissima, almeno per quello che ci interessa adesso. Presuppone che se qualcosa cambia, ci deve essere qualcosa che non cambia. In che senso? Nel senso più ovvio del termine. Cioè, quando io predico di qualche cosa, per esempio di questo foglio che stava qui e adesso sta qui, ciò che cambia in questa predicazione è la posizione del foglio, ma il foglio è lo stesso. Io predico una differente posizione A e B di una cosa. Quindi quella cosa, perché possa cambiare, deve essere la stessa. Perché se io avessi il foglio qui e un elefante qui, non ci sarebbe un cambiamento. Ci sarebbero due cose diverse. Non c'è un cambiamento tra il foglio qui e l'elefante qui. Se io ho un tigrotto neonato e poi un uomo adulto, non c'è un cambiamento tra il tigrotto neonato o l'uomo adulto. C'è il cambiamento dal bambino all'adulto, ma deve essere ovviamente la stessa persona. Non è che qualunque bambino diventa qualunque adulto. Capite? Quando si predica il cambiamento, lo si predica di qualcosa che non cambia. E questo è sempre. È necessario il cambiamento, altrimenti non c'è il cambiamento. Il concetto opposto, tra virgolette, proprio a livello concettuale e correlativo, sarebbe la creazione. La creazione non implica un cambiamento. Infatti non c'è nessuna logica che deve legare un prima a un dopo rispetto a una creazione. Se io creo un elefante, prima potrebbe esserci qualunque cosa. Perché rispetto al concetto di creazione non c'è neanche un prima. Quindi io posso dire che qua c'è un parco e adesso c'è un elefante come creazione, ma non c'è un cambiamento. Non predico il cambiamento. Ma del cambiamento ci deve essere qualcosa che non cambia, qualcosa che sta sotto. Sub-stare in latino, sostanza. Vedete il termine sostanza? Viene da questo. Indica quel qualcosa che rimane la stessa dietro un cambiamento che rispetto a quella cosa è accidentale. La sostanza che sono io, Fulvio Di Blasi, è accidentale, è accidentalmente bambino e adulto, ma la sostanza io sono la stessa, la stessa persona. Allora, quando ci si rende conto, e non voglio sviluppare adesso tutti gli aspetti della logica del cambiamento, però questa cosa è importante. Talete guarda, la natura vede che tutto cambia, tutto diviene, ma quindi significa che c'è qualcosa, se tutto si trasforma in tutto il resto, c'è qualcosa che per necessità non deve cambiare, che deve rimanere la stessa cosa. E quindi lui cerca, ovviamente con i suoi occhi di 2700 anni fa, cerca qualcosa che ovviamente sia alla sua portata, un principio tra le cose che vede, che possa essere in tutto e rimanere sempre lo stesso. E lui dice l'acqua. Vedete, da questo punto di vista l'acqua assume un colore tutto diverso come risposta filosofica, razionale, perché l'acqua effettivamente l'isila, si nota dappertutto, l'umidità, la vita, la pioggia, il mare, i fiumi. Si nota che dove c'è vita, dove c'è rigoglio di qualcosa c'è l'acqua, quindi per talete, e ripeto, qui non ci interessa la conclusione, non dobbiamo ridere del fatto che l'acqua è una risposta, diciamo, ingenua, in mente naif in inglese, perché ripeto, ho il problema che spesso faccio, troppo spesso faccio lezioni in inglese e non in italiano. Per cui, quando noi ci concentriamo su questo, dobbiamo stupirci della brillantezza di talete che guarda la natura, si meraviglia del fatto che essendoci un cambiamento ci deve essere per logica di cose qualcosa che non cambia, siccome il cambiamento, e non è il cambiamento di una cosa sola, ovviamente, perché rispetto al seme che diventa un albero, il soggetto è lo stesso. Se c'è qualcosa che cambia, che io però posso vedere che è la stessa cosa, la sostanza tipica, il problema non è tanto tra me come bambino e me come adulto rispetto all'intuizione di talete sulla ricerca del principio di tutte le cose, ma il fatto di me dopo che muoio, prima che nasco, cioè del fatto che tutto si trasforma in tutto. E quindi ci deve essere qualcosa che precede le stesse sostanze che noi a livello macroscopico vediamo intorno a noi e rispetto a cui ci sono tanti cambiamenti accidentali. Quindi da questo punto di vista talete deve cercare un principio che logicamente deve esserci, deve esserci qualcosa che dietro tutti i cambiamenti non cambi. Ripeto, la risposta specifica ci interessa poco, però è interessante che il suo ragionamento stia cercando qualcosa che è comune a tutto. È anche interessante, per motivi che vedremo ancora meglio dopo, che tutti i filosofi antichi, presocratici di questo periodo, che cercano l'archè, è il termine che usano per indicare la ricerca del principio primo di tutte le cose, è la ricerca dell'archè. È interessante che tutti lo vedono come un principio divino, il motivo per cui lo vedono non è oggetto di questa lezione. Però pensateci, ripeto, e dimenticatevi il fatto che osservavano soltanto la natura fisica in un modo che per noi è un po' semplice, troppo semplice. Però pensateci, se veramente ci fosse qualcosa che riesce a cambiare tutto senza cambiare, in fondo è come il motore immobile di Aristotele. Ma, ripeto, lo affronterò dopo. Però è interessante che come intuizione filosofica l'idea che ci sia un principio di tutte le cose si collega a un'idea del divino nella filosofia greca. Quindi Talete è il primo filosofo proprio perché cerca, un po' come faceva Esioro, di dare una spiegazione di tutto, della realtà. Ma la sua spiegazione non è soltanto un modo di mettere una cosa dopo l'altra, dal caos se viene la terra, Gea e così via. No, no, la ricerca è di una logica razionale del perché qualcosa ne spiega un'altra cosa. La risposta dell'acqua è un tentativo di risposta razionale a un problema logico. Non è soltanto un'espressione poetica per indicare la ricerca di una spiegazione delle cose. No, no, è effettivamente il tentativo di un'applicazione razionale e in questo senso Talete viene considerato il primo filosofo. Vediamo un attimo, velocemente, così conosciamo i nostri personaggi di questa commedia meglio. Questo è l'unico caso in cui voglio fare un piccolo excursus storico, così poi possiamo procedere meglio nelle nostre lezioni perché citeremo tanti pensatori brillanti e fantastici, però non lo faremo mai in prospettiva storica. Però lasciatemi ricordare velocemente come funziona più o meno quel periodo della filosofia greca che possiamo considerare il periodo della nascita. Intanto il primo periodo, quello che Talete inizia nell'antica Grecia, in realtà lui è uno di quelli che stava nell'attuale Turchia, nella città che si chiama Mileto, le prime città appunto sono Mileto ed Efeso per la nascita della filosofia. Il primo periodo della filosofia si chiama naturalismo, il naturalismo filosofico. Tutti i pensatori che vengono prima di Socrate in questo senso fanno parte di un periodo naturalista. Perché? Perché la filosofia si concentra, come abbiamo appena visto con Talete, sulla spiegazione della natura, cercando una spiegazione effettivamente degli fenomeni naturali che si osservano fuori di noi. Quindi è come se l'inizio della filosofia sia a metà tra quella che per noi oggi è la fisica e la filosofia della natura, che per loro ovviamente era la stessa cosa, non c'erano queste distinzioni. Questo periodo si divide convenzionalmente in una serie di scuole, alcune si autoriconoscono come scuole, specialmente i pitagorici, altre invece sono più divisioni convenzionali, su cui ripeto, io in questo corso non mi voglio e non voglio neanche entrarci. La prima scuola è quella degli ionici, proprio per la regione dell'attuale Turchia in cui sono nati e in cui hanno cominciato a fare filosofia. E questi sono, li vedremo, io scorrerò, mi muoverò nel pensiero di questi primi filosofi ora nelle prossime lezioni. Il primo è Talete, l'abbiamo appena visto, poi ci sono dei filosofi importantissimi che sono Anassimandro, Anassimene ed Eraclito. Eraclito ve lo ricorderete, è il filosofo del divenire, del tutto cambia, nulla permane. Io ho una predilezione anche speciale per Anassimandro, ma in fondo anche per Anassimene, perché dicono delle cose, noi cercheremo di vedere come tutti questi filosofi vedevano qualcosa di geniale. Ed erano così bravi, cioè la loro genialità stava nel vedere qualcosa. Il tipo di spiegazione, ripeto, è completamente indifferente dal mio punto di vista, ma se riusciamo a vedere quello che vedevano loro, allora partecipiamo alla loro genialità. E tutti quanti sono geniali da questo punto di vista. E siamo sempre in questo periodo, del VII-VI secolo a.C. Ovviamente più andiamo avanti, più ci avviciniamo nel tempo, già con Eraclito siamo più vicini anche al V secolo. Poi abbiamo i Pitagorici, che effettivamente sono più una scuola abbastanza chiusa, possiamo immaginarla quasi come una setta religiosa di oggi, diciamo, che si riuniscono, quasi non parlano se non in gruppo, quindi è difficile anche dire cosa appartenga uno all'altro. E con i Pitagorici ci spostiamo nell'Italia meridionale. Pitagora per le vita è nato a Samo, in quest'isola che è sulla costa della Turchia, ma in realtà è un'isola che appartiene alla Grecia. E anche a quei tempi era un'isola greca, perché tutta quella costa della Turchia era colonia greca. Però poi si trasferisce in terre migliori, si trasferisce a Crotone, in Italia, dove fonda la sua scuola. I Pitagorici sono una scuola molto importante per noi, per tanti motivi. Vi ricorderete la genialità di Pitagora con i numeri e molti conoscono Pitagora soltanto per i numeri, i numeri nel senso algebrico del termine, perché come sapete non esistevano quei tempi numeri che usiamo oggi. La genialità dei Pitagorici era proprio quella di giocare l'immaginazione sulla geometria. Però a noi interessa soprattutto l'apporto di Pitagora alla filosofia in questo corso e lo vedremo presto. Un'altra scuola importantissima, quella invece degli Eleatici, chiamati così dalla città di Elea, anche questa in Italia, che come città di Elea non esiste più, è una stude di Sorrento. Il cui campione, Parmedide, è per noi fondamentale perché lui accrea con Eraclito il primo grande dibattito della storia della filosofia, un dibattito fondamentale in realtà che ripercorrerà poi tutta la storia della filosofia in tanti modi e che per noi è fondamentale perché è un dibattito a cui poi Aristotele darà una spiegazione, una risposta molto interessante che vorremmo analizzare, a cui si ricollega anche il motivo per cui io parlerò poi dello spazio del tempo, ma è un dibattito incentrato sulla logica del divenire che io voglio evidenziare. Gli altri autori di questa scuola sono un autore diciamo spurio e senofane e a noi non interessa molto anche perché non è veramente parte della scuola aleatica, anche se era uno molto intelligente, infatti è stato anche in Sicilia, non si è fermato soltanto nel Sorrentino e poi ci sono Zenone, famosissimo per i paradossi e Melisso di Samo che poi è quello che un po' sintetizza tutti gli aspetti dell'essere parmenideo. Un'altra scuola più recente su cui pure dovremmo soffermarci è quella dei pluralisti e anche qui non voglio spiegare esattamente perché i pluralisti sono importanti per noi e qual è la sequenza che porta dal dibattito tra Eraclito e Parmenide e pluralisti. In questo momento mi basta dire che è un'altra scuola ovviamente molto più vicina anche nel tempo, qui siamo abbondantemente nel V secolo verso il IV ed è una scuola che è molto più simile a livello scientifico alla nostra mentalità contemporanea, infatti la scuola interna ai pluralisti che vi ricorderete meglio di tutti è quella degli atomisti e gli atomisti effettivamente pensano che la realtà sia fatta da questi mattoncini che non sono divisibili ulteriormente che è il concetto di atomo, il significato del termine atomo è proprio questo, è la particella più piccola che non si può ulteriormente suddividere. E dei pluralisti abbiamo autori importantissimi come Empedocle, Anassagora, Democrito e su alcuni di questi dovremmo soffermarci, non ci soffermeremo su tutti perché ripeto questo non è un corso sulla storia in quanto tale, è un corso sulla logica filosofica e quindi alcuni di questi autori però sono così importanti per questo sviluppo che per noi è fondamentale affrontarli, ma a volte alcuni aspetti del loro pensiero dovremmo sorvolare e andare avanti. Dopo il periodo naturalista, queste sono le scuole, ripeto, ionici, pitagorici, eleatici e pluralisti, sono le quattro scuole principali del periodo presocratico, il periodo naturalista della filosofia greca. Poi comincia invece quello che è il periodo umanista, che è caratterizzato fondamentalmente nei trattati di filosofia dai sofisti e da Socrate. È il periodo in cui nasce propriamente la filosofia morale ed è il periodo in cui a me interesserà fare vedere come la stessa nascita della filosofia morale con Socrate si collega a quella stessa logica del divenire che noi piano piano adesso scopriremo in questa prima parte del corso e svilupperemo dopo. Dopo noi non arriveremo fino a là, parleremo moltissimo di Platone e di Aristotele, però il periodo successivo a Socrate è quello cosiddetto, le grandi sintesi, perché Socrate è già uno degli autori più brillanti mai esistiti, ma in realtà ho detto autore anche se non abbiamo nessuno scritto di Socrate, è uno dei pensatori. Invece poi abbiamo le grandi sintesi che sono quelle di Platone e di Aristotele, le due stelle della filosofia greca. Come sapete però abbiamo uno strano rapporto non corrispettivo tra gli scritti di Platone e di Aristotele, perché di Platone abbiamo soltanto gli scritti che lui ha fatto per gli esterni, gli scritti divulgativi che sono quelli fatti in forma di dialogo, ma non abbiamo nessuno degli scritti tecnici che lui usava con i suoi studenti dentro la scuola. Nel caso di Aristotele è esattamente il contrario, sappiamo che Aristotele ha scritto anche dei dialoghi, ha fatto gli scritti più per gli esterni, però di lui abbiamo soltanto gli scritti tecnici interni alla scuola, quindi quando leggiamo in realtà c'è anche un approccio molto diverso stilistico ai scritti che abbiamo. Dopo questo periodo dei grandi sintesi di Platone e di Aristotele abbiamo le scuole ellenistiche, l'ellenismo è il periodo in cui con Alessandro Magno c'è un'ottica cosmopolita, politica, che apre tantissime nuove prospettive della cultura del tempo, abbiamo le scuole conosciute come stoicismo, epicureismo, scetticismo, eclettismo e poi abbiamo il periodo dell'era cristiana, il periodo religioso in cui c'è l'avvento di Cristo che nella storia del pensiero, come ho già accennato, è un elemento dirompente perché i pensatori cristiani sono convinti giustamente che non ci può essere contraddizione tra la rivelazione e la scienza umana e quindi lavoreranno fondamentalmente a cercare l'armonia tra ragione e fede, quindi tra gli scritti della filosofia greca e la rivelazione cristiana. Ed è un bellissimo modo di guardare l'intera storia che va proprio dall'anno zero della nostra civiltà fino grossomodo agli albori della modernità, fino almeno al 1300-1400, è un periodo in cui lo spirito umano si concentra fondamentalmente nel trovare armonia tra ragione e fede e lo fa in modo mirabile anche sviluppando poi in questo modo, come ho già accennato in altre lezioni, sviluppando anche concetti che per la stessa filosofia diventano fondamentali e cercando a volte l'esigenza di trovare un'armonia tra ragione e fede, porta la ragione a spaccare il capello in quattro perché hai distinzioni che possano effettivamente fare vedere dove sta il senso dei dati rivelati e di questo, alcune di queste cose le vedremo poi nel prosieguo del corso.